Stiamo per mostrarvi le immagini di via Giuseppe Capruzzi che vedete qui alle mie spalle. Una via sottoposta sicuramente ad un intenso traffico, dove buche e asfalto dissestato sicuramente non giova gli automobilisti. Come potete vedere dalle nostre immagini, le condizioni di questa strada non permettono una corrente affluenza degli automobili.